I quadisti, Jeremy Varnia, Team Motoworks DBT, primo posto in gara 1, secondo e primo posto in gara 2, Jeremy Varnia, 1st place in race 1, 1st place in race 2. Jeremy, cosa dici su San Severino e su questa rinforza in Italia e su un campeonato europeo? E' la mia prima volta in Italia e è un paese molto grande, è un paese molto grande, per la rinforza ho fatto due starti, come top 3 e poi ho cercato di calma e trovare una buona line e poi ho potuto passare Paul Holmes e Montalbini per la ultima rinforza. Il mio Canham era molto buono, era molto forte e nel secondo modo ho fatto un buon start di nuovo e ero 3 o 4, poi ho potuto fare un passare a Montalbini e poi a Schreber e ho potuto salvare il mio 1st place durante la rinforza e ho vinto, quindi è molto bello. Sono ancora più bello, però è un'esplodione per la rinforza europea. E sei la prima rinforza europea? Si, ho 25-28 punti, quindi è bello. E sei un campeonato grande e vediamo che ci aspettano per passare il altro bambino di race 1, per passare Nicola Montalbini e in race 2, per passare Stefan Schreiber. Sei sicuro sull'ATV che puoi passare questo motore? Sì, il motore è stato molto scherzo, perché c'è il giudice nel principio e è molto hard park, e ho cercato di salvare la mia linea Montalbini era più veloce nel primo motore, ho cercato di pulire e pulire per farlo, e nel ultimo lapso ho trovato una buona linea per passare quindi è stato molto bello, e nel secondo motore è lo stesso, ho cercato di salvare la mia seconda e se potessi essere il primo, è stato un bonus per me, ho cercato di salvare le punti per l'Europa perché è una molto lunga motore, è una molto lunga raccoglione, quindi la mia linea è molto forte e spero di continuare a continuare Grazie Jeremy, complimenti per il tuo primo posto e ci vediamo la prossima volta in Italia Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti e qualche parola per Romain Capri, tuo amico? Sì, Romain ha fatto la campione francesca perché vuole venire la campione francesca ha fatto un crash due settimane in Europa quindi sarà concentrato sulla campione francesca e credo che ha vinto i due motore quindi sarà molto difficile nel prossimo weekend e spero di fare una buona raccoglione Grazie, grazie Jeremy, complimenti Grazie